Non è andato come sperato l'incontro tra il Crotone e il tecnico De Zerbi. Sembrerebbe aver fatto indispettire la decisione di De Zerbi di prendere ancora tempo, visto che deve incontrarsi ancora con l'Ascoli e poi anche con il Catania. Arrivato a questo punto il presidente Vrenna si sarebbe un po' indispettito e avrebbe anche congelato il passaggio di Juric al Genoa. Oggi l'incontro tra Preziosi, presidente del Genoa e Vrenna per chiarire la situazione. Rimangono ancora calde le piste che portano a Davide Nicola che avrebbe in un primo momento rifiutato l'offerta economica. E' proprio sul fronte economico il problema più grosso per il Crotone che ha contattato anche Walter Zenga ed Edireia. E lì bisognerà fare uno sforzo se si vorrà portare uno dei due alla guida del club pitagorico.